Ciao a tutti ragazzi, forse a qualcuno è sfuggito la notizia, per la verità anche a me, l'ho letta adesso e ora la dico. Allora, mentre a Venezia hanno messo la tassa di 5 euro a persona per entrare, per i turisti, perché diversamente non riescono mica a fare, per dire, no, forse non bastavano il caffè a 15 euro oppure una bottiglia d'acqua a 20 euro, no? Ci vuole anche la tassa. Niente, viceversa, al sud, a Napoli, il comune di Baccoli, il sindaco, ha deciso che qualunque azienda che ha a che fare sul territorio di Baccoli, privata o pubblica, appalto o no, non può pagare gli operai meno di 9 euro all'ora. Meno di 9 euro all'ora, avete capito? Cioè, il salario minimo l'ha imposto il sindaco praticamente con una delibera comunale. Quindi, se si vogliono le cose, si fanno, non è che c'è bisogno di aspettare il governo nazionale. Praticamente lui, con un piccolo comune, ha deciso per sé che chiunque lavora nel raggio del comune di Baccoli deve dimostrare che paga gli operai almeno 9 euro all'ora. È semplicissimo e si può fare, è vero? Eh, bisogna volerlo fare. Evidentemente questo sindaco ha trovato la quadra giusta. Eh, che dire, onore a lui, eh. Mi auguro anche che verifichino anche i requisiti di sicurezza, magari delle imprese, la contribuzione e tutte queste cose qua. perché così evidentemente qualcosa può cambiare, in meglio, eh. Niente. Era così, una notizia che andava, secondo me, detta, andrebbe diffusa dappertutto, eh. Se vi va condividetela con chi volete perché è importante, è un passo importante. Un saluto a tutti.